Seconda giornata dei festival di cambiamento, oggi siamo a Trieste, quali saranno gli argomenti affrontati oggi? Gli argomenti oggi parleremo del lavoro, parleremo dell'intelligenza artificiale, avremo dei relatori molto profondi su questi temi, parecchi, avremo altri 15 relatori oggi che affronteranno questi due macro temi, tra cui avremo anche il governatore Federica che farà un punto sull'eserzione economica della nostra regione, oltre a che di genera Tavazzi che farà un quadro generale della seconda giornata. Il tema dei temi che anche ieri, anche non volendo, anche non essendo la regione, è balzato fuori è quello dell'intelligenza artificiale e anche quello delle città che cambiano, le città è il modello di vita di noi. L'intelligenza artificiale sta, in questi mesi, in questi giorni, divatendo tantissimo perché, come diceva Jari Galimberti, la paura è che, più che porra per lui, è una certezza. Io ho fatto le corna quando ho detto così, la battuta ci sta, nel senso che lui dice che le macchine gestiranno l'uomo, non più l'uomo gestirà la macchina. Questa cosa, se dovesse accadere, è veramente terribile perché, insomma, gli esempi che ha fatto ci stanno, l'intelligenza artificiale si autoalimenta e diventa sempre più intelligenza. Noi, nel suo modo di esprimersi, invece ci rapportiamo fra l'uno e l'altro e incameriamo il 10% di quello che diciamo, cioè con chi parla dice adesso.